Ha fruttato ben 40.000 euro il furto con scasso che i gnoti hanno operato in danno del supermercato Paghi Poco. L'interno dell'esercizio commerciale di Viale Cannatello è stato raggiunto senza troppe difficoltà grazie a un foro operato dai malviventi nella parete, forse di cartongesso, che faceva da divisorio tra un magazzino e il supermercato stesso. Pare abbiano anche disattivato l'allarme prima di avere accesso alla cassaforte. Non è chiaro se siano entrati nel garage dall'interno del palazzo che ospita anche il supermercato o forzando la saracinesca esterna, cosa non tanto improbabile, considerato che data la posizione nascosta rispetto alla strada avrebbero potuto agire indisturbati. Diverso sarebbe se all'interno un sistema di ripresa fosse stato attivo anche durante la notte. Si tratterebbe di un contributo non indifferente agli inquirenti. Ad accorgersi del danno stamattina è stato il proprietario che ha subito avvisato la questura. Gli agenti della sezione volanti e gli uomini della scientifica sono giunti sul posto ed hanno effettuato i rilievi di rito alla ricerca di impronte e indizi utili all'individuazione dei colpevoli.